Non c'è pace per la spiaggia di Torrequetta, quello che sarebbe dovuto essere l'anno del rilancio dopo il blocco imposto dalla pandemia e le beghe giudiziarie che hanno coinvolto la vecchia gestione evidentemente non sa da fare. Anche la giudicazione provvisoria dello scorso inizio luglio affidata alla MAPI SRL è stata annullata. Le verifiche avviate dalla Commissione della gara hanno portato all'esclusione delle prime tre aziende classificate e quindi anche della MAPI alla quale era stato affidato il servizio. La Commissione ha rilevato un collegamento fra l'azienda prima classificata, la seconda e cioè la catena alberghiera Allegro Italia e la terza burrata bar, un collegamento che secondo la normativa ha portato all'esclusione delle tre. La MAPI SRL aveva vinto il bando con un'offerta con un rialzo percentuale del 465% del canone demaniale, posto a base di gara di 35.000 euro in tre anni. Di qui i controlli da parte della Commissione anche sulla quarta classificata, ovvero lati barese composta da Lucente, Gruppo Ideazione e Cube Comunicazione. Se non dovessero esserci ulteriori intoppi, saranno loro a gestire la spiaggia a sud del capoluogo per i prossimi tre anni, offrendo un canone di locazione di 500.000 euro. Ma anche se dovesse arrivare la giudicazione provvisoria, si dovrebbero comunque aspettare i tempi tecnici per la giudicazione definitiva e si arriverebbe ad agosto inoltrato. Poi si dovrebbe allestire la spiaggia, dare in gestione i vari chioschi per la somministrazione di cibo e bevande e così via, arrivando quasi inevitabilmente a ferragosto. Intanto il comune sta provvedendo all'acquisizione dell'area su cui sorge il bar di pane e pomodoro, anche questo rimasto chiuso tutta l'estate. In questo modo Palazzo di Città potrà dare in gestione l'area con una struttura compatibile per la somministrazione di cibo e bevande, procedura questa ancora più lunga da risolversi sicuramente entro la prossima estate.